INTRO Olá a tutti ragazzi sono il vostro Luke E oggi come sempre siamo sul Mind Combat Non come sempre ma quasi Oggi ragazzi andiamo a fare una cosa molto bella Ossia Prendere il piccone e andiamo a scavare un po' Come mi avete chiesto nel precedente episodio Ragazzi se avete visto che non ho pubblicato subito l'hardcore nuovamente perchè ho visto che abbiamo raggiunto i 10 like raggiunti e superati sul mine combat e quindi come dovuto perdonate, vi porto il mine combat quello del maltier prima cosa ragazzi voglio augurarvi buona pasqua perchè in teoria questo gioco dovrebbe uscire appunto domenica pasquale non la domenica di pasquale la domenica di pasqua quindi vi auguro una buona pasqua pasqua a voi e alle vostre famiglie e spero molto che la passiate in modo felice non so quanti di voi vedranno questo video, magari saranno con la famiglia quindi preferiscono stare con la famiglia giustamente e vabbè quando lo vedete spero che gli auguri gli auguri li accettate comunque ok, comunque scaviamo un po' perchè me lo avete chiesto inoltre ragazzi ho notato sul clan di clash royale che vi ricordo si chiama i lupacchiotti per altri info lo incite in descrizione praticamente ho notato che mi fate diverse domande tra cui ma farei mai la blind food challenge oppure la risk e il gusto o queste cose particolari certo ragazzi mi piacerebbe molto farle molto e di verità sto chiedendo a qualche mio amico se diciamo vuole farmi compagnia tra virgolette perchè è una cosa che è più bello fare in compagnia che da solo non ci trovo gusto ok ok ragazzi ho notato che il canale si sta sviluppando piano piano vi ringrazio per tutti i like che state lasciando sappiate che vi voglio un mondo di bene e appunto vorrei che ancora lasciate tutti questi like che mi state regalando ragazzi perchè è molto importante che mi aiutate a crescere perchè posso diciamo affidarmi a voi perchè siete i miei più grandi aiutanti ovviamente comunque vi ricordo ragazzi per qualsiasi domanda appunto come detto prima potete entrare nel clan in cui giornalmente molti di voi mi fanno le domande siamo già in 16 quindi c'è posto siccome ne possono entrare 50 massimo dagli che c'è posto dovremmo essere tipo 16 comunque vabbè io sto registrando questo video di sera mi pare cioè mi pare nel senso perdonate sono un po' stanco appunto si capisce che è sera sto registrando questo video di sera e appunto ho visto che il video di Clash Royale ha raggiunto a malapena 6 like ragazzi quindi se volete che la serie fa avanti cercate di lasciare minimo 10 like come sempre sono rimasto molto contento di come è andata l'hardcore per chi non l'ha vista la trova ovviamente nei video caricati ho caricato il primo episodio dell'hardcore 2.0 e vi consiglio di andare a vedere e lasciare un bel like ok se volete che la serie continua anche se in minimo l'abbiamo raggiunto ma mai dire mai c'è nel senso mai fermarsi eh più che dire mai mai fermarsi ok ragazzi da un bel poco non scavavo devo ammettere che mi sembra un po' estranea questa cosa e mamma mia cioè facciamo tanta roba ringrazio per tutti coloro che oggi sia Pasqua mentre voi starete guardando questo video guarderai il mio video mentre stavo la famiglia eccetera mi fate un grande diciamo più che felicità mi sprigionate non so che dire non so che dire proprio non ho parole mi fate essere felici dai facciamo felicità che è meglio più che altro orgoglioso di voi ecco la parola perché comunque apprezzo molto che anche durante le feste diciamo perdonate il termine mi cagliate ossia vedete i miei video rimanete attivi ok guardate quanto sto a scavare già ho fatto una stacca e mezzo di ruoli di redstone quindi non è che sia male andiamo a rompere tutto andiamo a buttare giù tutto una cosa bellissima ragazzi ci stiamo avvicinando ai 700 iscritti e vi devo ringraziare molto spero che continuate a supportarmi condividendo i video soprattutto più che lasciando mi piace anche condividendo e dicendo alle vostre amici oh senti ci sta sto pepe tipo che è bravo a far video almeno così pensate che sto bravo eh io sono in primis a dire che non sono bravissimo e forse me la capicchio per esperienza diciamo che ne ho poca però ne ho abbastanza e però me la capicchio e comunque appunto richiedete ai vostri amici ai vostri parenti magari c'è una di Pasqua oh babbo oppure nonno non vedi questo che sa fa magari ti potresti ti potresti appassionare anche tu e vabbè roba del genere anche io Pasqua passerò con la mia famiglia quindi ragazzi se sarò poco attivo nei commenti perdonatemi ma ovviamente dovrete sapere che quanto la Pasqua e come il Natale si sta sempre insieme alla famiglia 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 si raga è troppo tardi ok sono tipo le 11 di sera e purtroppo è tardi però è l'unico momento della giornata che ho trovato per registrare perché ho potuto preparare insieme ai miei genitori roba per domani raga domani mi mangio il mondo però zitti non lo dite a nessuno stavo a farlo a salutare YouTube raga siccome è una cosa che dicevo è un'abitudine che ho un po' perso perché non farlo a risalutare dopo un po' farlo scusa YouTube se ho dato della femmina non è che ti devo fare vediamo un po' chi c'è online poca gente raga purtroppo il il main combat ha perso un sacco un sacco di utenza e sì e questo è vero purtroppo non so perché raga o perché la maggior parte adesso nerda su Clash Royale ma non credo che sia proprio quello eppure per il fatto diciamo è passata di moda può dare un po' noia come dava a me inizialmente adesso qualche aggiungimento azione qualche aggiunta di nuovi dettagli è molto bello per esempio le caserme queste cose e vabbè quindi c'è gente che ho salutato almeno educato sì wey ehi YouTube ok ah sì raga poi mi sono dimenticato hanno aggiunto il PvP non è che diciamo cavolate adesso ve lo faccio vedere dai scavo quest'ultima roba andiamo allo spawn quanto dura la dura ragazzo video l'importante e che siate contenti belli io vorrei sapere una cosa raga perché arrivato a questo punto del video ma a voi piacciono più i video lunghi o di più i video corti però diciamo consistenti in che senso per esempio un video più tagliato magari che dura 5 minuti però ha un senso logico non è che è tutto contro senso vabbè buttiamo sta roba buttiamo sta roba oppure blocchi di cargore ma che c'è friga ma che ci importa se famo il vino cioè famo pure l'acqua non è così però che se ne friga ok sì ragazzi poi ho notato adesso molti di quelli che me l'hanno chiesto non arriveranno mai a questo punto del video mi hanno chiesto di fare collaborazioni ragazzi io non sto facendo collaborazioni con Carmix per chi mi conosce da molto tempo sa chi è è un mio grandissimo amico lo definisco il mio migliore amico del tubo e se non faccio collaborazioni con lui è perché davvero non ho tempo di certo no perché lo voglio evitare perché ripeto mi diverto un botto con lui e per chi vuole sapere il suo canale se andate sul mio tra i consigliati c'è il suo quindi è un po' un contorta la cosa ma si può fa si può fa ok questi dicono venite al pvp però fatemi posare un attimo sto beccozzo sì ragazzi mi laggo un po' e perdonatemi se ogni tanto potete scattare ma perché devo aggiornare java e dopo l'aggiorno c'ho questa spada potentissima raga affiladezza 5 indistruttibilità 3 aspetto di fuoco 4 saccheggio 4 cioè potentissima però uso questa qua diciamo del kit che avevo semplice e ce l'abbiamo a fare giusto per farvi vedere perché non ho ancora provato oltretutto allora si trova il tier 1 quindi l'hanno messa disponibile per tutti i tier ed eccola qui ed eccola qui ragazzi c'è tanta brutta gente la sotto quella vola vabbè sarà un VIP penso però forse ne ha fatto una cavolata raga ammettere che i VIP possono volare in zona pvp perché diciamo se tu voli è normale che non lo possa colpire raga io direi di andare a morire tanto che non mi cambia niente eh cioè yuppi 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 ucciso you have combatted ok praticamente ha detto stai combattendo con x fede non sluggare quindi non uscire da server vabbè semplice ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io vi auguro ancora buona pasqua a voi alle vostre famiglie mi raccomando lasciate i like se il video vi è piaciuto anche se non vi è piaciuto grazie o se lasciate i dislike motivatelo commentate il video con dei consigli condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale quindi ragazzi ci becchiamo al prossimo episodio e ciao